Carissimi amici di Rossini TV benvenuti a questo focus a questo spazio dedicato al patinaggio di velocità su ghiaccio e su rotelle e allora quando parliamo di patinaggio di velocità dobbiamo assolutamente parlare con dei luminari di questo settore di questo sport ossia il Toroski center e allora vi vado subito a presentare i nostri ospiti Michele Ravagli benvenuto Michele grazie mille buongiorno a tutti e poi abbiamo una campionessa Linda Rossi eccola qua buongiorno e poi un altro campione Andrea Polloni salve buongiorno più tardi conosceremo un'altra campionessa vi racconteremo altre storie intanto insomma vi starete domandando perché nel territorio pesaro eccetera non tutti ancora hanno ben chiaro di che cosa è il il pattinaggio di velocità Michele facciamo una sintesi spieghiamo bene esattamente noi siamo l'unica realtà organizzata e riconosciuta dalla federazione nella provincia di Pesaro Urbino quindi pratichiamo il pattinaggio di velocità l'inline speed skating la nostra disciplina appunto si sviluppa in circuiti tre tipologie di circuiti abbiamo la pista indoor che è diciamo l'alter ego estivo di quello che alle olimpiadi invernali vediamo che è chiamato short track poi abbiamo la pista parabolica nel ciclismo potrebbe essere diciamo il velodromo quindi ciclismo su pista dove appunto le curve sono soprelevate ci sono varie distanze da percorrere sia singole che di gruppo quindi sia a livello di caratteristiche e valenza metabolica che di qualità tecnico tattiche e il circuito stradale dove appunto intervengono altre capacità dell'organismo altre situazioni tattiche le distanze si modificano e addirittura si va dalla 100 metri che è la velocità pura quindi a paragone diciamo dell'atletica leggera fino alla maratona ecco questo è un po è la nostra disciplina in sintesi ecco visto che abbiamo portato qui oggi questi campioni raccontaci un po allora sarebbe lunghissimo raccontare le medaglie tutti tutti i premi che hanno ricevuto questi due ragazzi giovanissimi ma raccontiamo di dove sono da quando si allenano da quanto si allenano con voi e soprattutto quali risultati importanti hanno ottenuto esattamente allora linda rossi e andrea polloni sono le nostre due eccellenze noi siamo una realtà che è nata nel pattinaggio di velocità si occupa di pattinaggio di velocità dal 2016 fine 2015 quindi siamo una realtà molto giovane ancora oserei dire embrionale e quindi ovviamente l'india andrea non sono il prodotto del nostro vivaio bensì sono due atleti già evoluti già di alto livello che per motivi propri e personali hanno scelto di affidarsi alle nostre competenze linda è di senigallia e lavora con noi dal 12 aprile 2016 mentre andrea è arrivato un paio d'anni dopo e addirittura con un bel fraseggio di società passando dalla dal lazio alla lombardia per poi approdare la riviera marchigiana e con lui si lavora da dal 2017 quindi ecco stiamo costruendo un percorso di altissimo livello nazionale ed internazionale nella bivalenza estivo invernale ghiaccio rotelle ecco linda cosa si intende quando michele dice si lavoriamo insieme cosa fate praticamente a dire realtà siamo sempre insieme comunque ovviamente gli allenamenti e al di fuori degli allenamenti perché comunque dobbiamo organizzare tutta l'intera stagione e diciamo che lui sta sempre con noi e ci sostiene anche al di fuori quindi ecco è questo ok qui andrea vi preparatevi allenate sì michele è una guida sotto tutti gli aspetti perché ci insegna a vivere ma soprattutto ci dà un grande sostegno per quanto riguarda l'allenamento e per quanto riguarda la preparazione perché è un guru della preparazione l'esponente massimo in questo momento della dell'italia esatto infatti michele ravagli è preparatore atletico della nazionale quindi michele insomma averti qui a pesaro e nella regione marca è molto importante per tutti questi atleti che hanno ambizioni veramente alte ma io io vi ringrazio a tutti ringrazio in primis gli atleti tu per la magnifica presentazione la fortuna di noi tecnici o preparatori o figure professionali che lavorano nello sport e incontrare il talento io ritengo da sempre e questa è una verità che un po ai più non piace perché toglie un pochino di blasone alla nostra figura però la nostra fortuna è quella di incontrare il campione poi vero è che il campione ha necessità particolari e quindi forse ancora più complicata la gestione del campione quando lo si incontra quindi ci deve essere una sinergia meravigliosa e quindi grazie la cosa bella però di michele che oltre ad allenare appunto campioni persone atletiche già sono pronti per gare importanti allena anche gli esordienti cioè se voi avete dei figli delle bambine che vogliono iniziare questa attività di pattinaggio e possono essere anzi saranno seguiti proprio da michele e dal suo staff diciamo subito anche michele per informare per andare un po anche sul concreto quali sono i luoghi in cui vi allenate e a chi è rivolto questo sport bella questa domanda emi allora lo sport è rivolto a tutti nel senso che noi partiamo da bimbi di tre anni addirittura così piccoli così piccoli devi vedere sono magici zampirellano sembrano dei paperotti sono sono meravigliosi e fino ad arrivare al corso adulti che ha persone di 70 anni per farti capire quanto il range del pattinaggio sia meravigliosamente fruibile questo perché qui entriamo anche un po nel mio ruolo faccio questa piccola digressione perché essendo uno sport di rotolamento o di scivolamento qualora si pensi alla variante invernale non abbiamo impatti per le strutture dei tessuti molli quindi gli impatti tendino legamentosi non ci sono quindi di fatto anche persone di una certa età con diciamo situazioni che non potrebbero prevedere sforzi di altra natura riescono a farlo quindi ecco tornando invece un po all'attività giovanile lavoriamo sulle capacità coordinative immaginiamo un bimbo che già ha imparato da qualche mese a camminare deve poi stare in equilibrio orientarsi capire dov'è il suo corpo in relazione ai compagni a uno spazio a un compito motorio proposto una figata pazzesca se ci pensate no e quindi è veramente propedeutico e dove si fa a pesaro a pesaro e si fa nella palestra della fisio gym che è una struttura che è diciamo convenzionata col comune presso la quale noi abbiamo delle ore in quanto società sportiva abbiamo delle ore a vantaggio dell'attività di base alla ludico motoria poi ovviamente l'impiantistica doc ahimè ancora non è presente nel nostro territorio e quindi dobbiamo decentrarci e lo facciamo da quest'anno abbiamo iniziato a farlo in modo figo molto bello perché ben organizzato anche organizzato perché noi abbiamo fatto gli investimenti in associazione sull'impiantistica per i ragazzi che abbiamo appena conosciuto e per i giovani agonisti ci dobbiamo rivolgere necessariamente all'impianto di Senigallia che è una pista con le curve paraboliche oppure al circuito ciclistico Marconi di Fano anche se non è un impianto ad hoc per il pattinaggio sui vari segmenti è possibile lavorare ma poi c'è anche un altro segmento no quelli che dalla ludico motoria per intenderci dalla corsia 1 della scuola nuoto devono imparare a fare gli altri stili ora come facciamo come gestiamo questa cosa visto che non c'è nessuna superficie idonea nella nostra città ci siamo inventati di innanzitutto seguire o meglio alleggerire i genitori della logistica dello spostamento noi prendiamo la nostra metropolitana adriatica, prendiamo il nostro treno, i genitori ci portano i bimbi in stazione noi con lo staff li prendiamo, li mettiamo in treno, andiamo a Fano Sport Park dove c'è una struttura che proprio funge al nostro caso e poi li riportiamo a casa quindi i genitori sanno l'orario di partenza, l'orario d'arrivo e noi ce ne occupiamo comodissimo, non c'è neanche problema di cercare il parcheggio per accompagnare i figli allo sport si dice no, si fa di necessità virtù, quindi questo è diventato una bella virtù un esempio anche di emancipazione verso i ragazzi e poi abbiamo anche investito nell'acquisto di un pulmino in tempo di covid dove nessuno si poteva spostare noi abbiamo fatto l'investimento, abbiamo comprato un pulmino in maniera tale da essere assolutamente indipendenti e scarruzzare i nostri atleti dove vogliamo veramente complimenti Michele, insomma quando c'è una difficoltà chiaramente trova subito una soluzione, infatti l'ha trovata in modo veramente perfetto e organizzativo e io vorrei tornare a parlare dell'impianto di Fano perché ci sono insomma delle progettualità molto importanti assolutamente sì, noi abbiamo una meravigliosa federazione il Toroschi è affiliato a due federazioni sportive nazionali quindi i massimi esponenti che si occupano di sport una delle due chiaramente gestisce la parte estiva del nostro sport ed è la Federazione Italiana Sport Hotelistici la Federazione Italiana Sport Hotelistici ha svariati uffici tra cui l'ufficio impianti l'ufficio impianti che si occupa anche dell'elaborazione di varianti nuove realtà, possibile impiantistica sulla tipologia che chiaramente la SD del territorio o anche l'amministrazione qualora ci fossero amministrazioni sensibili che hanno intenzione di investire con la nostra federazione elabora progetti e il mio amico Fabrizio Sabatini ha elaborato un'idea un'idea meravigliosa che potrebbe essere anche introdotta nel Comune di Fano l'avevamo fatta a suo tempo con il precedente assessore adesso l'abbiamo ripresa in mano e ci stiamo lavorando anche perché sarebbe veramente interessante creare proprio una realtà ad hoc per il patinaggio nella nostra provincia proprio perché ne è totalmente sprovvista e quindi ci saranno sorpresi in tal senso cominciamo a fare un pochino di marketing con la curiosità anche esatto, poi chiaramente chi fosse interessato a volere aiutare Michele in questo progetto ci contatti o contatti proprio il Toroski Center è bellissimo allora noi portiamo un messaggio, una mission io ritengo che lo sport giovanile soprattutto non debba essere fucina di medagli in età precoce perché di questo si tratta bensì di sostegno al percorso di crescita dell'individuo a 360 gradi noi interveniamo in un ruolo preponderante con i ragazzi i ragazzi vedono più noi probabilmente che l'insegnante d'italiano piuttosto che a volte il genitore che lavora fuori abbiamo un ruolo fondamentale una sinergia con le famiglie che deve essere perpetrata e portata avanti con spirito etico quindi l'investimento sull'impiantistica nel pattinaggio io dico di pattinaggio perché non ce l'abbiamo per imprenditori con alcuni sto già chiacchierando potrebbe essere anche una valenza non solo progettuale a livello di business o di core business per il futuro bensì anche una grande valenza a livello di proprio valore socio e sportivo esatto allora io andrei a sentire un po' le vittorie che hanno portato a casa questi due ragazzi anzi questi tre ragazzi perché dopo conosciamo anche Emma ultimamente Linda vuoi raccontarle tu le vittorie o le possiamo raccontare da lei? ma io sai poi divento noioso sono anche bruttino sono strano sono fatto a spigoli Linda è leggiadra Andrea è un adone Linda raccontaci le ultime vittorie che ti sei portata a casa dove sei stata quali campionati hai partecipato raccontaci tutto allora le ultime vittorie sono state al campionato europeo in Portogallo diciamo sono tornata una settimana fa più o meno e che ho portato a casa due ori e quattro bronzi è stato uno dei campionati più belli che io abbia mai fatto sia per il clima della squadra sia per i tecnici che diciamo che è venuto anche Michele quindi è stata la ciliegina sulla torta forse una delle cose più belle del campionato e quindi questo quest'anno è stato molto bello per me come anno mi sono portata a casa molte cose belle che ne avevo bisogno davvero da anni quindi ecco diciamo per ora finisce con il campionato europeo le rotelle e adesso mi butterò su ghiaccio benissimo e invece Andrea tu cosa ci racconti? allora quest'anno è stato un anno di crescita un anno in cui ho imparato molto innanzitutto dal pattinaggio e quest'anno abbiamo fatto molte gare questo ci ha permesso di competere molto meglio a livello internazionale e anche a livello nazionale e l'ultima gara è stata il campionato italiano di Senigallia dove sono uscito molto soddisfatto da queste gare e è stato un bel percorso e sicuramente questo è un punto di partenza e non è un punto d'arrivo perché da qui si può migliorare ancora adesso voglio anche salutare un'altra atleta del Toro Ski Center si chiama Emma Porcellini ciao Emma salve allora Emma è un'atleta ma sta approcciando ci dicevi tu Michele al settore dell'agonismo assolutamente sì Emma ecco è la più grande delle nostre ragazze classe 2004 ha fatto tutto il percorso da quando ci allenavamo veramente nelle piste ciclabili e nei parcheggi quindi lei ha ha proprio conosciuto e creato il Toro Ski cioè lei è il Toro Ski di fatto perché veramente ha avuto una pazienza incredibile oggi qui possiamo pattinare domani qui no lì c'è la macchina parcheggiata dove si va ecco quindi è cresciuta in questa in questo modo consideriamo che quest'anno Emma ha raccolto diverse medaglie ai campionati regionali quindi ecco noi siamo sempre scanzonati ma se consideriamo poi che le marche sono una delle regioni leader in Italia significa che andare forte nelle marche significa non essere proprio diciamo scarsi anzi tutt'altro e la cosa meravigliosa è che è proprio l'emblema di quello di cui parlavamo prima il messaggio il percorso l'affiancamento la crescita dell'individuo Emma ci ha sposato come compagni pomeridiani si è sempre trovata bene abbiamo condiviso tante cose oltre allo sport e adesso approda ad allenarsi con l'India Andrea quindi insomma c'è uno scoglio mica da poco passare da allenamenti diciamo da ragazzi ad allenamenti di altissimo livello e la cosa stupenda è che quando c'è una necessità in associazione Emma si rende disponibile anche a coadiuvare in modo egregio l'operato dei nostri tecnici oggi con noi ci doveva essere anche Serena Mocavero che è un po' febbricitante causa seconda dose del vaccino e quindi e quindi ovviamente non può essere presente però cioè noi siamo strutturati proprio anche per sostenere la ludicomotoria anche attraverso l'esperienza dei nostri agonisti questa Emma è l'emblema ecco allora Emma diamo la parola a te devi raccontarci tante cose a quanto pare posso dire che come ha detto Michi essendo io nata nel Toroschi essendo nata con il Toroschi sin da quando ero proprio una bambina piccola sin quando mi allenavo con ancora i pattini giocattolo di plastica questa è diventata con gli anni è diventata la mia casa in pratica io ormai vivo praticamente tutti i giorni con Michele ci sentiamo anche al telefono e riesco tranquillamente a dirgli tutto quello che mi capita anche al di fuori dell'ambito sportivo e ogni qualvolta io ho un problema a casa magari non riesco a raggiungere il luogo d'incontro per l'allenamento o altri problemi di sorta riesco sempre comunque a trovare un appoggio per qualsiasi per qualsiasi problema quindi è come è proprio come se mi sentissi accolta come se fossi in una famiglia infatti spesso mi capita di vedere più volte a settimana Michele o comunque la mia squadra rispetto a compagni di classe amici scuola talvolta anche la mia famiglia perché in fondo essendo impegnati o avendo altri problemi capita di non riuscire a vedersi e grazie a Michele anche io quest'anno ho avuto un percorso di crescita una crescita che comunque ho notato è stata molto molto grande infatti sono arrivata dal non riuscire a conseguire alcun risultato ad arrivare anche a podio regionale quest'anno e alla qualificazione per il campionato italiano posso dire che è stato un anno in cui sono rimasta molto soddisfatta di me stessa del percorso che sto facendo e del percorso che Michele assieme anche a Linda Andrea che si allenano con me mi hanno mi hanno permesso di fare complimenti davvero Emma e poi Michele è bello vedere la passione di questi ragazzi la determinazione la voglia veramente di essere impegnati in qualcosa di costruttivo non solo per le medaglie eccetera ma anche di crescita proprio personale perché i ragazzi che fanno sport io l'ho fatto sempre praticamente da quando ho iniziato a camminare hanno comunque una marcia in più su tanti settori e avranno un aiuto grandissimo nel futuro quindi impegnarsi vivere con i propri compagni vivere l'emozione di una gara respirare la fatica il sacrificio e poi avere dei traguardi importanti è veramente un'emozione unica il pattinaggio ancora di più perché appunto come dici tu è uno sport che non è che siete tantissimi e quindi voi che vi allenate state sempre insieme avete creato un team molto forte sì è tutto giusto sia la tua esperienza come atleta di livello non nel pattinaggio ma in quella che è stata la tua disciplina tutti noi abbiamo fatto un percorso io stesso insomma sono stato atleta azzurro nel pentathlon moderno quindi no abbiamo anche questa capacità di reinventarci e soprattutto i ragazzi e questo diciamo è un né un consiglio né un indirizzo è un'esperienza che io da genitore genitore di un figlio di 23 anni che sta terminando in modo eccelso il suo percorso universitario mi permetto di dare ai miei colleghi genitori lo sport non toglie spazi allo studio non l'ha mai tolto e non lo toglierà mai lo sport permette di organizzare al meglio la giornata dei vostri figli verissimo questa è una cosa che deve essere proprio inserita e io l'ho l'ho vissuta come figlio come studente come genitore come figura intelligenziale come tecnico come preparatore della nazionale quindi è un valore aggiunto e queste testimonianze che sono assolutamente gratuite perché a Demma nessuno gli ha detto vieni a Rossini TV o vai a fare una cosa perché la società ha bisogno che tu abbia di al tuo contributo no è perché se non sei in te e questa cosa è fantastica perché il gruppo di atleti coesi che fa sacrifici che vince battaglie che si rialza dalle cadute non solo del pattinaggio ma proprio anche cadute emozionali e si rimbocca le maniche e riparte è veramente una figata noi abbiamo un bacino di oltre 100 bimbi tesserati dei quali gran parte fanno il corso di pattinaggio per imparare altri fanno il percorso ed è per quello che abbiamo deciso di sostenere a vario livello e a più livelli questa possibilità Prima di chiudere Michele allora diamo i contatti i riferimenti che poi vedrete in grafica in chiusura di questo focus di approfondimento per chi si vuole iscrivere quando iniziano i corsi eccetera insomma Sì noi ancora siamo attivi noi il mese di agosto siamo attivi abbiamo due appuntamenti a settimana su Pesaro che adesso questa è l'ultima settimana di gare dopodiché il settore agonistico chiaramente si ferma almeno per il mese di agosto e ricomincerà a settembre l'attività ludico-motoria sta andando avanti siamo al San Decenzio perché l'estate insomma andare in palestra è caldino quindi al San Decenzio il mercoledì e il venerdì alle 18.30 ancora e anche questi bimbi qualora siano pochi vengono diciamo accompagnati su Fano con le modalità che dicevamo prima in maniera tale che poi raccogliamo anche il bacino di Fano e continuiamo a lavorare insieme in giorni e orari diversi però adesso è inutile che io li stia e li incarico ma i contatti sono su tutte le pagine social abbiamo anche la pagina TikTok e quindi dove ci sono le coreografie delle nostre splendide ragazze e quindi siamo su TikTok siamo su Instagram siamo su Facebook e io personalmente sono anche su LinkedIn come i miei atleti d'élite e Torol Ski Center e quindi è facilmente individuabile e lì ci sono tutti i riferimenti i nostri gestori delle pagine social rispondono anche in tempi ragionevolmente brevi perché abbiamo gente molto yes come un po' il nostro motto e quindi ecco siamo un po' multitasking e soprattutto a livello della collocazione temporale durante l'arco dell'anno riconosciamo pochi tempi morti perché noi lavoriamo anche d'inverno Emi Siccome all'inizio abbiamo detto che Torol Ski Center è patinaggio di velocità su ghiaccio e su rotelle allora di rotelle ne abbiamo parlato abbondantemente ma su ghiaccio nel territorio dove sono piste per fare questo sport Michele? Ma semplicemente non ci sono è molto semplice il concetto è questo perché nasce l'idea di affiliare il Torol Ski non solo alla Federazione Italiana Sport Rotellistici ma anche la Federazione Italiana Sport Ghiaccio perché le rotelle al momento non possono garantire un futuro da professionista all'atleta in quanto non sono discipline olimpiche in quanto non sono intercettati dai corpi militari ma e qui arriva la figata siccome noi facciamo questo di lavoro noi siamo dei professionisti dello sport io lavoro personalmente con lo sport con la preparazione atletica dalle 0 alle 24 dall'1-1 al 31-12 quindi se io ho per le mani uno, due o più talenti se io ho per le mani un gruppo di ragazzi anche giovanissimi 10, 12, 13, 15 anni che vuole dire porca miseria Michele io ci voglio provare nel calcio si può fare nel basket si può fare nel nuoto si può fare nel volley si può fare e nel patinaggio no allora ho detto caspita facciamo l'affiliazione alla Federazione Ghiaccio ci appoggiamo a un anello di qualità che sarà il prossimo anello olimpico per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 che è l'anello di Baselga di Pinè dove il nostro settore giovanile i ragazzi di 11-12 anni hanno fatto già gli stage di qualche giorno e il nostro alto livello va ad approcciare ormai l'ha già fatto questo percorso quindi non approccia più ma eccelle anche nel ghiaccio seguiti da quelli che possono essere i miei corrispondenti d'inverno perché chiaramente io posso avere dei presupposti tecnico-metabolici ma mi mancano le conoscenze tecniche della lama piuttosto che quelle particolarità che si devono perfezionare non dimentichiamoci che stiamo parlando con le macchine di Formula 1 dello sport evoluto quindi è come se io avessi sotto mano una Ferrari non possa avere il meccanico sotto casa devo avere un meccanico specializzato quindi ecco questo lavoro in team permette o meglio noi cerchiamo di sostenere e poi saranno loro a dovercelo dire se sta cosa funziona o meno il loro percorso anche in una possibile realizzazione di una carriera evoluta e permanente quindi loro praticamente vanno una serie di giorni al mese o come funziona durante il periodo invernale Linda e Andrea dopo aver approcciato il primo anno anno e mezzo a fare un po' avanti e indietro hanno investito le loro famiglie hanno investito le famiglie sono sempre i primi sponsor degli atleti e hanno affittato un appartamento che condividono dal mese di novembre grosso modo fino al mese di febbraio inoltrato e chiaramente fanno attività su lama e poi insomma la loro testimonianza è sicuramente più più esaustiva di quella che potrebbe essere questa mia presentazione insomma quindi vi trasferite direttamente in montagna e vivete quotidianamente il ghiaccio Linda sì assolutamente sì ci trasferiamo là e siamo immersi tra freddo e ghiaccio sì stiamo stiamo su Andrea sì diciamo che comporta molti sacrifici però i sacrifici sono delle idee che ripagano sempre quindi sono sempre delle esperienze che si fanno si impara molto e ci piace prossimo obiettivo di Andrea sicuramente fare un podio a livello nazionale il che permetterà comunque uno sguardo diverso nei miei confronti da parte della nazionale quindi adesso ci impegneremo lavoreremo sodo e vediamo Linda tuo obiettivo mio obiettivo è grande per ora sono le Olimpiadi le prossime Olimpiadi e speriamo un croce legnita dai dai ragazzi ce la metterò tutta dai Michele mi raccomando devi essere agguerrito ma certo che siamo aggueriti ma tu pensa Emi che figata ragioniamo noi siamo territorio di vongole cozze ricci di mare spaghetti allo scoglio e sardoncini scottavito e su questo nessuno mette becco assolutamente detto questo ci confrontiamo con i top level a livello internazionale Olanda Cina Giappone Canada venendo da questo posto c'è Andrea di Andalatina grosso modo le coste delle vongole magari ci sono anche da lui si chiamano Telline anche un nome bruttissimo se permettete però è così quindi ecco l'idea di riuscire ad eccellere anche in queste condizioni mi piace mi stimola e do il 127,8% di quello che so per sostenere tutti i miei ragazzi e allora grazie per questo approfondimento dedicato al Toro Ski Center ringrazio allora Linda Rossi grazie grazie a voi Andrea Polloni grazie mille grazie Emma grazie a te alla prossima e naturalmente grazie a Michele Ravagli ma sono io che ringrazio e devo ringraziare Emi anche chi permette al Toro Ski Center di poter esistere perché se noi possiamo sostenere i ragazzi è perché qualche benefattore ci dà modo di lavorare noi abbiamo Comis che ci sostiene dal 2013 quando ancora ci occupavamo di Ski Roll ricordo no? noi siamo diventati patinaggio dal 2016 quest'anno abbiamo avuto un ingresso di una bellissima realtà artigiana locale la gelateria squisitissima Vanilla & Co che comunque anche lei sostiene ci stiamo trattando altre partnership nonché quelle che abbiamo enunciato prima quindi è un work in progress imprenditori siamo sul pezzo voi eccellenze nell'imprenditoria e noi facciamo il massimo per essere bravi nel nostro settore ok? mettiamo insieme questa sinergia grazie a tutti per averci guardato e aver ascoltato questo approfondimento adesso vi lascio con la programmazione di Rossini TV grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti